Francesco De Angelis, mitico skipper di Luna Rossa, secondo te dopo questa coppa con questi multiscafi si può tornare ai vecchi monoscafi o la strada è segnata secondo te? No, certo che si può tornare ai monoscafi che poi non devono essere vecchi, possono essere dei monoscafi di una formula nuova, una barca più veloce, agile, in cui ci possono essere tanti sorpassi, sono dei monoscafi velocissimi. Certo che ci può essere anche la visione di un multiscafo, credo che sia difficile dopo aver provato queste velocità a tornare indietro, basterebbe scegliere una piattaforma un po' più robusta, adatta a correre in condizioni diverse, perché poi alla fine con l'uso e con l'allenamento riesce a fare il match race anche con queste barca.